Questa città nonostante tutto ha tante cose da raccontare, è proprio per questo che appare in edicola una nuova pubblicazione, La città ieri e oggi. Riedizione della più vecchia iniziativa editoriale della nostra città, il giornale firmato da una vecchia conoscenza del giornalismo locale, Sergio Ercoli. Dividono con lui le fatiche di questa nuova testata altri personaggi noti dell'informazione locale, Pietro Bassanetti e Luisa Carniello. Il giornale, oltre ai fatti che riguardano il territorio, cerca di creare attraverso il racconto e la testimonianza dei fatti storici una cultura della città. Si è una cultura della città, una espressione di opinioni, dei commenti, approfondire eventualmente le notizie negli articoli politici o negli articoli culturali. La città e la regione penso che la città ieri e oggi abbia una sua giustificazione di presenza in un complesso così vivo e vitale di un territorio come quello di Pomezza, di questa municipalità che forse non si rende pienamente conto di quello che è la situazione di sviluppo in tutti i sensi, che non è solo sviluppo economico, e sviluppo di presenze civili che devono avere uno sbocco, devono essere rappresentate a livello territoriale. Quindi credo che la città ieri e oggi abbia questa preziosa funzione, una funzione di promozione di opinioni, di pensieri e di idee. Questo sia un fatto fondamentale di un giornale come questo della città ieri e oggi. La città di Pomezza ha vissuto anche un momento di una certa difficoltà, una crisi amministrativa che è durata diversi mesi, che poi si è risolta nell'agosto di quest'anno, nel 1989. È stata una crisi sofferta, lunga, forse fatta da incomprensioni, di prese di posizione che non tengono conto di quello che è la realtà democratica di una città o di un paese, di una nazione, cioè dove le maggioranze hanno il diritto di governare. C'è ancora quella questione degli schieramenti che sembra predominare un po' la vita politica italiana, ma riteniamo dopo tutti i fatti, che io ritengo, dopo tutti i fatti che avvengono nel mondo, specialmente nel mondo dell'Est, ma anche nel nostro mondo, nel mondo occidentale. Vi riservo, la questione degli schieramenti dovrebbe essere largamente superata per far posto di nuovo all'uomo, alla donna. Ero presenti nella vita pubblica, che è una presenza indubbiamente essenziale. Quindi Pomezia ha vissuto questa lunga travagliata, a volte anche, forse potrei usare un qualche cosa di eccessivo, ma non lo è disastrosa, anche perché ci sono state perdite di tempi, di momenti essenziali per la vita della nostra città e in modo particolare per quelle celebrazioni che avrebbero dovuto essere già iniziate nel 1938, poi ne parleremo eventualmente, e quindi definite nel 1939. Questo cinquantinario di una città giovane è passata praticamente così, in maniera un po' desolante. Ecco, un po' desolante. Questo siano, secondo me, gli avvenimenti, l'avvenimento più importante, eclatante, quello che ha inciso di più sulla vita della città. Oggi c'è un'amministrazione comunale, non posso ancora fare un giudizio ben preciso, comunque diversi consiglieri e consigli comunali sono stati fatti, diverse cose sono rientrate nell'ordine di una normalità, la Giunta deve ancora completare però il suo ciclo promozionale, cioè deve avere tutti i suoi assessori, perché come chi ha seguito un po' le vicende amministrative saprà che due assessori di altri partiti che non facevano parte dell'attuale maggioranza sono rimasti lì, incastonati, ero per mesi, hanno creato una situazione difficile da interpretare, non certamente una situazione democratica lineare e pulita. Adesso questi si sono dimessi e di conseguenza l'amministrazione dovrà affrontare il pieno della Giunta per poter operare, ce l'auguriamo fino al termine della legislatura, perché è fondamentale che una legislatura abbia finalmente a Pomezia, dopo tutti gli avvenimenti degli anni passati, le chiusure, le ripetizioni, sindaci, assessori, commissari, eccetera, abbia finalmente una legislatura. La data fondamentale che tutti si sono dimenticati, tutti, è del 3 giugno del 1938, decreto della loro imperatore Vittorio Emanuele III, controfirmato dal capo del governo del tempo Benito Mussolini, è la creazione della municipalità pomettina, cioè è la nascita della comunità pomettina, veniva scorporato il territorio dai comuni vicini e è creato quindi il nuovo territorio del comune di Pomezia. I cittadini che allora esistevano di Ardea e di Pratica di Mare, che fino a quel momento erano cittadini di Roma, diventarono a tutti gli effetti cittadini di Pomezia e le famiglie che vennero a loro si insediarono in una comunità ben definita e ben precisa, che andava da Torvaianica a Santa Palomba e da Santa Palomba a Ardea e a Torre San Lorenzo. Questa è la data fondamentale che tutti si sono dimenticati. Hanno poi pensato alla data dell'ottobre del 1939, il 29 di ottobre il giorno dopo delle celebrazioni della marcia su Roma, ma il 29 ottobre senza nulla togliere al momento dell'inaugurazione, per carità, però è una data politica, è una data politica che può avvenire in qualsiasi momento secondo le esigenze o le opportunità di chi in quel momento governa. E quindi le date importanti sono queste, aprile del 1938, 25 aprile, posa della prima pietra e 3 giugno del 1938, creazione della municipalità. E non è vero quello che si è detto per giustificare certi errori o certe leggerezze o certe semplicità di interpretazioni. Ecco, sarebbe stato opportuno un convegno in questo senso, per definire una programmazione ben precisa. Ecco, non è vero che la vita poi è venuta da... non è vero niente, perché immediatamente nell'agosto del 1938 venne nominato il commissario e la prima casa municipale fu a pratica di mare, è chiaro che qui era in costruzione alla casa futura. Quindi a pratica di mare si cominciò a lavorare, i famosi cinque terribili leoni della leggenda ormai. Cinque era il notaio cinque segretario, terribili era il ragioniere terribili e leoni era il commissario. Quindi allora è nata proprio in quel momento la municipalità. Subito dopo però, nel periodo della guerra, c'è stato un degrado, l'allontanamento della gente per lo sfollamento, il municipio fu trasportato a Roma in una palazzina di via del corso e poi è rientrata dopo lo sfollamento e nel 1946 ha ripreso a vivere piano piano, fino al 1950 ci sono state delle situazioni ancora non ben definite, per avere poi nell'amministrazione del 1952 le vere e proprie elezioni democratiche della città. Ecco, quindi questa impostazione è fatta di leggerezza, come si è visto, senza chiarire date con precisione e via di seguito, fa torto a una storia recente, che poi è la storia di Pomezza e la storia di 50 anni. Dirò di più oltretutto, il Consiglio Comunale, che è l'organo rappresentativo della città, non è mai stato ufficialmente investito per l'apertura di queste celebrazioni del 50 anni, mai una volta è stato detto iniziamo la celebrazione così, così, niente. Quindi su questo piano si è fatto forse una parvenza di chiusura, ma una parvenza, ma la chiusura si fa se c'è perlomeno un inizio ufficiale alla presenza delle rappresentanze cittadine, qualche cosa che non guasta, non è retorica, è un minimo di solennità, se non altro per l'avvio di queste ricorrenze. Molti possono pensare a retorica, ma furia di pensare che è retorico tutto, tutto scade in una specie di aridità, la mancanza di sentimenti, la mancanza di volontà di creare questa unità cittadina che è indispensabile per la crescita di città, di territorio come credo sia importante il territorio del Comune di Pomezzo.